Allora, buonasera, ci troviamo qui su un mare di Squillace, nella meravigliosa terra della Calabria. Invito tutti quanti a venire a conoscere il nostro mare. E non lo perdi. Ah, lo devo fermare io? Eh sì, lo è passante. Mi scusi? Sì, prendi, lo dica. Cosa pensa di questa meravigliosa regione?